Ciao e benvenuti all'Elettronica 2022. Sono Franco e con me è Nello, da Meridionali Impianti. Qui vi mostro una parte della linea di produzione che abbiamo in Estimaco Electronics in Catania, dove c'è in realtà quasi 2,000 metri di questo tipo di automazione. Le diverse industrie hanno cambiato rapidamente, a causa delle tecnologie emergente e delle nuove demandazioni di clienti. Ci vediamo che i clienti vogliono assicurare che abbiano più visibilità nei processi di produzione e poi possono anticipare potenziali errori nella produzione. Questo ci porta già alla quarta, ma anche alla quinta rivoluzione industriale, dove Estim sta proporzionando tecnologie e soluzioni per aiutare. In un'altra parte i clienti utilizzano tecnologie per aiutare innovazioni industriali, per migliorare la visibilità di asset e ridurre il tempo di macchina, utilizzando applicazioni come asset tracking e la mantenzione predictiva. Nell'altra parte, stiamo anche implementando le nuove tecnologie nelle nostre fabbricazioni e le fabbricazioni. Per la dimostrazione abbiamo implementato qui solo un po' di metri, per mostrarvi i principi elementi di questo sistema. Il primo elemento di questo sistema è il SARA. Il SARA è un robot autonome, potente muovere sulle linee. Il abbraccia e prende le boxe con le nostre stile, e collabora con gli operatori e altri robot. La collaborazione di robot umano e la connessione con altri elementi sulle linee è una parte clave della nuova rivoluzione industriale. Un altro elemento clave è il monorail. Il monorail è bloccato e non bloccato da un robot SX-Axis e avviene le boxe sicuramente e rapidamente sui vari passaggi della produzione. L'ultimo esempio qui è il boxe. Il boxe che avviene l'acqua è labellata con un dispositivo D-Stag che è usato per riconoscere il status di produzione. L'operatore e i robot SX-Axis possono identifichere la nuova rivoluzione e lo direttare ai passaggi di produzione corretta. Questo aiuta a qualcosa che si sta nel ruolo di controllo per gestire la produzione remotamente e tutto il processo e condividere informazioni con altre macchine e assette in questo ambiente. Ok, ora andrò a Nello, i miei amici, che è l'automazione e il direttore di ICT in Medinale Impianti, che ci racconta più di questo sistema. Nello, è solo a te. Grazie Franco. Abbiamo stato supportato l'ECT nel mondo per circa 40 anni con una presenza locale e una strategia globale. Medinale Impianti ha la capacità di sapere e di usare prodotti ST e sviluppare sistemi e applicazioni nel campo della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'argomento realizzazione. Il obiettivo comune è di supportare un futuro di benvenzione, di aumentare la produttività e la sicurezza dei operatori. Sarà è uno dei risultati cooperativi con un robot collaborativo che si può muovere le boxe e imparare e imparare la produzione in un modo completamente collaborativo e sicuro con gli operatori in un'area lavorativa. Meridional Impianti continuerà a supportare ST con la missione di compagnia di attivare come l'engine di progresso per la compagnia innovativa. Grazie Nello e una soluzione molto promessa per digitizzare le produttività di produzione di ST. Questo è molto interessante e molto importante. In additione a questo, ST sta anche aiutando i clienti a digitizzare le loro operazioni e i processi con l'aide di tecnologie IoT. Per esempio, sono migliorando la visibilità dei vostri asset per avere la locazione e la informazione di status e per sapere la salute della macchina per evitare alcuni errori potenti che possono stoppare la linea di produzione. Per esempio, qui abbiamo alcuni sistema di evoluzione che mostrano l'applicazione di traccia e le applicazioni di produttività e pregettive. Il primo esempio è il nostro sistema di evoluzione ST-WIN. ST-WIN è il nostro smart senso di sensazione ed è imbedito diversi sensori ed il megacontrollatore e il St-WIN è la perfetta soluzione per ogni applicazione industriale. qui è montata nel motorizzato per detectare o anche anticipare anomali possibili. Il rapporto relato mostra il status e i valori dei parametri sensori che sono disponibili nel sistema. Sei attenzionati perché al principio del prossimo anno rilasciremo una nuova versione di questo sistema che si chiama ST-WIN. l'Astra 1B è un esempio che è una tecnica di locazione che include Bluetooth, NFC, LoRa, GNSS, Plasmotion e sensori sensori e sensori e seguire il ciclo attraverso il processo. L'Astra 1B mostra la posizione che è messa in Catania e altri parametri. Il terzo esempio è SmartTag V2 che è il nostro sistema con sensori NFC tag con un ultra-low-power tracciato. Nella demo è usata per trasportare il nostro wafer. La memoria è appena per identificar il contenuto, riportare il status e tracciare anomali possibili che succedono durante la trasportazione. tutte le soluzioni sono disponibili e potete ottenere informazioni sulla nostra pagina web inizia st.com